ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad una disquisizione caotica ebbene sì ogni tanto accade no un video dedicato a una disquisizione in generale nel campo dell'orologeria un video che vuole essere una pillola nel senso che di solito sono abbastanza brevi o perlomeno quello che mi ripropongo io e di farli brevi poi a volte escono fuori un pochino più lunghi ma questo non è un problema l'orologio del giorno intanto così tagliamo subito la testa al toro è il mio bellissimo oris diver 65 in acciaio e bronzo 40 mm di diametro cassa il suo bel calibro sellita sv200 nella configurazione standard quindi nemmeno troppo elaborato no però è un orologio che a mi piace che mi piace indossare soprattutto al mare un orologio che lo utilizzo intensivamente e non mi spaventa se si graffia se si ammacca se vira anzi se vira mi diverto ancora di più ma torniamo a noi una disquisizione caotica una pillola no così voglio esternare un mio pensiero e allora lo faccio tramite il video è un sistema per parlare un po con tutti e per ascoltare anche il vostro parere non vuole essere un video polemico anzi vuole essere un video che serve che possa servire a mettere in guardia le persone ok cosa è successo vi spiego subito cosa è successo ho ricevuto una email recentemente qualche giorno fa dell'organizzatore di un evento importante dedicato agli orologi che si tiene nel nord italia che mi invitava caldamente a partecipare all'evento e con l'offerta anche non lo nego di darmi un rimborso spese per il viaggio e per l'hotel se non vado errato viaggio hotel hotel sicuro insomma in ogni caso io gli ho risposto gentilmente che di solito quando mi muovo lo faccio per piacere e che non ho bisogno di un rimborso spese ringrazio comunque l'organizzazione per averci pensato e che era già nella mia testolina una mezza idea c'era già di andare a quell'evento lì a partecipare a vedere gli orologini no perché sono nel momento nel quale ho voglia di prendere un altro lungin vintage e quale migliore occasione di partecipare alle fiere dedicate dove ci sono un sacco di banchi tutti veramente con incontro scatoloni diciamo no piuttosto che andare in un mercatino domenicale dove c'è un banco 2 lì c'è un raggruppamento di banchi di qualità e quindi gli orologini si trovano quindi avevo già una mezza idea quindi io ho gentilmente rifiutato il fatto che mi rimborsassero e sto valutando poi ho scoperto che ha fatto anche un video pubblico quindi non sto dicendo niente di segreto ha fatto anche un video mi ha imbarazzato ma mi fa piacere nel quale mi invita ok o perché arrivo a questo punto perché nella stessa giornata nella stessa data a metà settembre mi avevano invitato anche ad un altro evento dedicato agli orologi sempre nel nord italia e non lontano da quella location stiamo parlando di 150 km quindi mi è venuto spontaneo pensare a una mia esperienza personale ok io ho organizzato per dieci anni la tattoo convention di la spezia la convention dedicata ai tatuaggi adesso io parlo prima persona ma in realtà non sono io che lo organizzavo eravamo un gruppo di persone un team veramente affiatato con il contro cazzi lasciatemelo dire e aiutati anche da una rete più estesa in tutta italia non sto ad entrare nei dettagli ma lavoravamo tutti bene in sinergia quindi per dieci anni io per semplificare ho organizzato questa convention cosa è successo che quando noi abbiamo fatto il primo anno eravamo la quarta la quinta forse la sesta al massimo tattoo convention in italia ok in ordine di anzianità e le cose andavano bene avvenivano 200 250 attuatori da ogni parte del mondo i visita del mondo i visitatori da tutta parte d'italia da qualsiasi parte d'italia da isole comprese i visitatori e poi avevamo messo su uno un ambaradan con due palchi ad un certo punto spettacoli di burlesque di intrattenimento concerti insomma era una gran bella cosa cosa è successo poi che negli anni hanno tutti odorato il business e ci sono messi tutti a fare le tattoo convention siamo arrivati al punto che ce n'erano due o tre addirittura per ogni weekend cioè questo significa veramente inflazionare l'ambiente e ci si erano messi persone che competenti che le facevano bene e poi anche gli incompetenti cani e porci no ormai era di moda e i tatuatori cosa facevano cercavano di andare in quella più vicina a loro quindi è sono diminuito il numero degli espositori drasticamente nel tempo la qualità dei tatuatori perché quelli più bravi poi dopo si sono stufati di questo ambaradan ed è diminuito l'afflusso di pubblico perché se prima si muovevano tutta Italia per andare a una convention quando scopri che ce n'è una ogni weekend nelle città vicino a te non ti muovi più al di là della qualità che poteva essere migliore la nostra la gente legge tattoo convention e va in quella più vicina no poi magari rimane fregata non rimane fregata delusa però intanto l'ambaradan va tutto a scomparire poi a noi ci ha dato il colpo di grazia il 2020 quando la dovevamo fare l'8 marzo e il primo marzo è iniziato il lockdown del covid avevamo già pagato tutto organizzato tutto è stato un mezzo fallimento l'anno dopo ci è servito per recuperare i debiti poi però era già un declino nei momenti prima quindi è andata un po così è questo per tornare al nostro discorso gli eventi degli orologi si stanno moltiplicando e il rischio è quello di finire nella stessa situazione cioè le persone non sono mammelle da mungere nel senso che non si possono spostare ogni weekend o addirittura come adesso due ogni weekend in giro per l'Italia andare a visitare a non visitare ed è inutile usare la scusa tra virgolette è ma sono eventi leggermente differenti no perché le persone sono le stesse se io decido di andare la faccia 200 chilometri spendo dei soldi per andare in quell'evento e poi la settimana dopo in quello a altre 200 chilometri magari non ci vado rinuncio diventa una cosa abbastanza c'è una situazione nella quale si rischia di far implodere tutto il sistema io lo dico agli amici organizzatori perché vedo che ne organizzano praticamente o quasi ogni weekend siamo arrivati addirittura certe fiere o da quello che ho sentito verranno fatte una al mese si sposta itinerante una al mese ma ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo altre che raddoppiano poi ci sono gli eventi grandi come può essere parma il mercante in fiera che lo fa due volte all'anno vicenza oro che è un'altra roba dedicata due volte all'anno stiamo veramente raggiungendo un numero di eventi che rischia poi di far implodere il sistema e questo è il mio consiglio questo volevo dire agli amici espositori di valutare bene se raddoppiare triplicare quadruplicare gli eventi lungo spalmati lungo tutto l'anno perché la situazione può diventare veramente critica critica poi rimetterci saremo tutti gli espositori gli espositori stessi quelli che vanno alle fiere poi a un certo punto si stufano anche di fare tante fiere vedendo che il pubblico è calato quindi non rientrano con i guadagni quindi anche gli stessi espositori a un certo punto dovranno rinunciare a qualcosa andare a quelle più vicine è un gatto che si mangia la coda come si suol dire un circolo vizioso quindi ripeto ancora una volta la morale di questo simpatico video vuole essere quello di mettiamoci tutti una mano sulla coscienza ragioniamo un attimo su quello che si vuole fare e cerchiamo di fare in modo che gli eventi siano pochi ma buoni mirati ma succulenti insomma non annaquare il tutto facendo ogni weekend due o tre eventi che poi va a finire che si esaurisce tutto perché non siamo polli da spennare boh mi sembra di aver detto tutto spero che gli amici organizzatori non l'abbiano presa male ma il mio è un suggerimento oppure diciamo pure una disquisizione un pensiero vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love